ehi siri mi racconti una barzelletta ci posso provare cosa fa una sardina dopo la doccia si ragazzi non ce la faccio sono una peggio dell'altra ma veramente hanno fatto un database non mi è capitata una volta una volta ogni volta che io glielo chiedo una battuta identica è assurdo mi serve la copertina grazie immensamente a tutti per il supporto che comunque state continuando a dare a questa serie siamo arrivati è un mese e mezzo che sto a fare bombe di calcio mercato veramente grazie io ci riprovo anche oggi per il doppio episodio di giornata ve lo porterò qua allora su questo video nell'esatto momento in cui arriveranno 2500 mi piace c'è un secondo modo per sbloccare il doppio episodio di giornata da a partire da questo momento 200 nuovi iscritti quindi se mi seguite e non siete ancora iscritti fatelo perché potete aiutarmi a sbloccare il doppio contenuto di giornata beh sta vi salì in polpettone di quelli esagerete ragazzi io vado immediatamente all'indovinendo c'ho due canali di calcio ovviamente il canale extra calcio mi faccio manca niente canali in descrizione o compariranno qui durante il video vado immediatamente al sodo indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello ho detto un portiere del tottenham in ottica paris saint germain situazioni un po particolari e ioris stavo pensando tra me e me ma io ho detto ioris al paris saint germain ho detto portiere tottenham ioris potrebbe diventare il nuovo portiere non titolare ovviamente ma prima alternativa del paris saint germain quindi non è uno scherzo qualcuno mi ha scritto ma stai scherzando spero ma ioris veramente vuole andare a fare il secondo a gigio donnarumma non lo so ragazzi però io reputo ioris effettivamente è un portiere che deve che ha la possibilità ancora di esprimersi al massimo dei livelli da titolare in qualche altra realtà e fu così che arrivò e donnarumma fece panchina e ok va bene vi devo dire un altro indovina indovinello cosa c'è nel mio cappello e io ci metto sempre di mezzo il paris saint germain ragazzi perché è abbastanza clamorosa ha fatto abbastanza al giro del web questa indiscrezione di calciomercato quindi se avete spulciato abbastanza ieri sicuramente la sapete lascio cuore a chi indovinerà provate ad indovinare il nome del calciatore chiedo scusa ma sto ancora male rega io non ho capito come è possibile sto ancora male è un mese da quando ho preso quell'informa ancora sto male un centrocampista del paris saint germain è finito nel mirino dell'atletico madrid un centrocampista importante non posso aggiungere altro a tal punto che l'atletico avrebbe offerto la bellezza di 80 milioni di euro il paris saint germain ci sta pensando ma sto ragazzo ha ricevuto anche offerte dalla saudi pro league il futuro di questo centrocampista potrebbe essere altrove è un centrocampista importante il paris saint germain scrivete qui sotto nei commenti secondo voi chi è lascio cuore a chi indovinerà ne parliamo eventualmente nel secondo episodio di giornata o al più domani qualora non dovessero arrivare i mi piace dove stanno tutte quelle no un'altra il paris saint germain magari evito di divvela eccola qui marez è sempre più vicino alla lali quindi scusate non è in gioco dei parole e il manchester city ragazzi qualora dovesse partire ovviamente deve pensare un'alternativa deve pensare ad un calciatore che può arrivare per sostituirlo stanno pensando a rapina quindi potrebbe essere lui l'indiziato numero uno poi ovviamente bisogna trattare con il club di appartenenza bisogna capire se c'è margine eventualmente ipoteticamente per fare questa operazione di calciomercato ma sempre in ottica alali è molto particolare perché stiamo parlando del new castle capire proprio da new castle e via dicendo saint maximain prestissimo diventerà da quello che ho capito è praticamente fatta poi bisogna vedere perché prendetela sempre come indiscrezione saint maximain potrebbe diventare un nuovo giocatore della lali per 40 milioni di euro e la dirigenza non mi ricordo se la dirigenza la proprietà comunque ha parlato qualcuno del del club e ha detto per il fair play finanziario siamo costretti a fare una cessione importante quindi insomma sti 40 milioni che entrano a loro è saint maximain che probabilmente se ne andrà questa sul barcellona ve la devo dire la conoscete la clausola della paura potrei farci un contenuto dedicato insieme al buon fabio è molto molto particolare scrivete hashtag lo voglio qui vi dico solamente che il barcellona ha ceduto al girona il classe in prestito da quello che ho capito il classe 2003 il classe 2003 incepiglio a parlare pablo torre o torre che dir si voglia hanno inserito questa clausola della paura come la chiamano in spagna quindi il ragazzo è libero di giocare tutte le partite del campionato del prossimo campionato col girona tranne che contro il barcellona sia all'andata sia ritorno non è la prima volta che succede è già successo per altri due calciatori dice ma è legale una cosa del genere tutto quello che scrivi all'interno del contratto è che le parti firmano entro un certo limite ovviamente è legale se volete quel tipo di contenuto si potrebbe fare perché ripeto è una cosa molto molto interessante non è di uso comune ecco diciamoci la verità no dice ma così stanno ridotti sì correa correa dell'inter ovviamente la gente ha smentito offerte dalla rabbia quindi i tifosi dell'inter sono un po dice ma come non ci stanno offerte dalla rabbia pensiamo di toglierlo dalle no non ci sono offerte dalla rabbia quindi probabilmente blocca un po quella che è la situazione del calcio mercato dell'inter perché da quello che ho capito io l'inter avrebbe voluto cederlo per fare spazio a qualcun altro no c'erano dei nomi importanti in ballo però per il momento ragazzi questo questo è quanto a meno che poi non cambi improvvisamente la situazione sempre in ottica inter fabian fabian quello con dubbi chiamatelo come pare il centrocampista quello importante campionato pazzesco serie b l'anno scorso regina e via dicendo ci ha messo gli occhi praticamente mezza serie a le cefrosinone bologna e udinese che lo vorrebbero in prestito per valorizzarlo ovviamente l'inter non ha intenzione di venderlo ha intenzione di mandarlo in prestito a farsi le ossa magari ecco in una dimensione che possa permettergli di giocare tutta la prossima stagione o quasi da titolare in serie a parecchie squadre stanno rispondendo a questa chiamata no dell'inter io so quasi convinto al cento per cento che probabilmente più le cefrosinone che bologna e udinese a mio modo a mio modo di vedere no la c'ha molte più possibilità di giocare titolarissimo e di esprimersi poi dipende se l'udinese fa cessioni e via dicendo la fiorentina cerca un attaccante cerca un attaccante ma ragazzi i nomi che stanno circolando nelle ultime ore in realtà uno dei due circola da settimane so pesantissimi se non sbaglio sta per scadere la clausola di questo calciatore se non sbaglio forse proprio oggi era il 20 di luglio o era il 31 di luglio la fiorentina è fortemente interessata a dia la clausola sta per scadere la clausola a 25 milioni di euro se non ricordo male e quindi magari gli escate per loro per la salernitana perché poi ipoteticamente andrà a parlare con qualcuno significa a clausola non vale più damme 35 40 dopo la stagione che ha fatto l'hanno appena riscattato oppure nzolà nzolà ovviamente operazione di mercato più economica per una squadra che ad oggi è in serie b quindi sarebbe più facile andare a trattare voglio non rinforzo io vedrei benissimo entrambi sia di a sia nzolà secondo me sarebbe un colpo sarebbero due colpi ma ne prenderebbero eventualmente solamente uno no a scelta sarebbe un colpo sia l'uno o l'altro importantissimo che cosa vi posso dire sta sfumando danjuma o danjuma chiamatelo come vi pare al milan ne stanno parlando tutti in realtà è il milan che stava cercando di trovare la quadra definitiva però regà non l'everton ci ha messo gli occhi su a tal punto che il calciatore sembra essersi convinto fabrizio romano ha detto manca pochissimo all'iruigo quindi probabilmente destinato a diventare un nuovo calciatore dell'everton non mancano le alternative al milan che comunque avete visto no attivissimi sul calciomercato dopo la cessione dei tonali stanno cercando tantissimi profili no per andare a ricoprire non solo il ruolo dell'esterno hanno preso pulisic a centrocampo si stanno rinforzando e non poco hanno preso visto che parliamo di milan anche gimenez no direttamente dal real madrid è un classe 2005 è un terzino destro appunto si aggregherà da quello che ho capito alla primavera del milan ovviamente guidata da ignazio abbate però pioli lo vuole valutare vuole capire se è già pronto per la prima squadra operazione in prestito con diritto di riscatto sembra non ci sia il contro riscatto poi qualcuno dice invece ci sarà vedremo comunque il milan ripeto attivissimo sul mercato ovviamente regà gli obiettivi sfumano gli obiettivi vanno e vengono in realtà no qualcuno però in milan sicuramente andrà a prendere per rinforzarsi ulteriormente il cagliari è fortemente interessato a show muro ecco questa è la classica operazione calciomercato conoscendo ragneri se ragneri ovviamente si interessa perché poi anche l'allenatore non solo il direttore sportivo no deve esserci nulla osta solitamente anche da parte dell'allenatore no se no che calciomercato fai se un allenatore gli eserbe in centrocampista del minato profilo gli enepichi in arto e tutta parte caratteristica insomma uno tende a rimasse contro no è la classica operazione che alla roma farebbe bene perché con noi show muro dove lo abbiamo visto ha funzionato poco o nulla ma sto convinto che trovare una piazza come come cagliari e un allenatore come ragneri potrebbe fargli bene e già mi immagino i golli contro di noi già già mi sono fatto un firma che vorrei evitare già mi sono segnata la data di roma cagliari regà 6 o 7 ottobre quindi preparatevi se arriva ci segna sicuramente doppietta all'andata e doppietta al ritorno ragazzi sul lukaku e mo ve lo dico perché stanno a succedere cose veramente veramente pazzesche nel frattempo smailovic nuovo calciatore del lecce difensore classe 2003 non mi ricordo da dove proviene ragazzi ma da una squadra semi sconosciuta lecce che va a rinforzarsi dal punto di vista difensivo e so quei classici calciatori ovviamente che vanno valutati sul campo per capire quello che possono ipoteticamente dare De Laurentiis acquista Menez che diventa un nuovo calciatore del Bari per me Menez in serie B può ancora dare tanto può essere un rinforzo importante c'ha le qualità nel dribbling poi la carriera del Menez è stata molto particolare si è perso abbastanza per strada perché era partito ad altissimi livelli ragazzi e poi ovviamente se finisce in serie B tra una situazione e un'altra c'è qualcosa che non va tra virgolette però per la serie B per il Bari secondo me Menez può dare veramente una grossa mano Luis Diaz toccherebbe veramente uno mi ha scritto ieri sotto il video fa il jingle che parte ogni volta che si parla di operazioni di calciopercato della Saudi Pro League Luis Diaz è finito nel mirino dell'Alilal 50 milioni di euro offerti a Liverpool Liverpool che non è che ha detto no famo muro che ha chiesto 80 mi pare 70 qualcosa del genere quindi vediamo vediamo quello che quello che accadrà Menez è vicinissimo a vestire la casacca del Genoa obiettivo forte del Genoa stesso scusate ragazzi ma ripeto sarà che fa caldo non mi sento benissimo per me potrebbe fare sicuramente bene per una squadra appena arrivata in serie A comunque te lo alza il livello anche in termini di rabbia agonistica di esperienza Bonucci ha rifiutato Galatasarai e Fenerbace detto in altre parole a meno di offerte da club importanti esteri di prima fascia Bonucci non è intenzionato ad accettare ecco il Galatasarai o il Fenerbace di turno preferirebbe a sto punto restare in serie A e magari abbassare il livello abbassare il livello fino a un certo punto perché c'è di mezzo la Lazio che sembra si sia interessata ho sentito anche che è stato offerto alla Roma ho sentito che sarebbe stato offerto anche all'Atalanta, alla Fiorentina e quello significherebbe abbassare leggermente il livello non lo so se alla fine qualcuno se lo prenderà se resterà in serie A però se lui vuole continuare a giocare arrivi a un punto che devi fare una scelta se poi dalla serie A la chiamata effettiva vera e propria non arriva se c'è solo una sorta di mezzo interesse Xavi Simons non ha fatto in tempo a tornare al Paris Saint Germain è stato ricomprato una situazione particolare anche Xavi Simons è stato ricomprato per 6 milioni di euro dal PSV era lui a clausola scaduta che c'era del tempo per decide, insomma molto particolare è stato girato all'Ipsia per me all'Ipsia fa veramente e buche detto in poche parole Sanabria rinnova probabilmente con il Torino dopo la bella stagione la passata e rinnoverà fino al 2027 è una notizia in realtà notizia tra virgolette di qualche settimana fa già era nell'aria sembra che adesso si concretizzerà definitivamente Politano chiede spazio Politano chiede spazio e per un Napoli che comunque sta cercando un esterno per un Napoli che ragazzi non avrebbe problemi a cambiare anche tutti e due gli interpreti della fascia destra quindi anche Lozano avete una situazione abbastanza difficile io credo che se c'è poi dipende sempre dalle offerte dalle cifre che chiederà ipoteticamente dell'Aurentis però se lui chiede spazio e il Napoli non glielo può garantire si può aprire ad una cessione però ribadisco deve arrivare una squadra che soddisfi quelle che sono le richieste economiche di Delaurentis e ad oggi secondo me non è minimamente facile la deadline di Mbappé è stata spostata al 31 luglio se non sbaglio era era il primo di luglio non vorrei di una stupidaggine ma Mbappé forse ne ha capito il Paris Saint Germain quello dice io ho un contratto fino all'anno prossimo non ho nessuna intenzione di rinnovare ho intenzione di giocare qua ma sapete per quale motivo il retroscena è il seguente il Real Madrid c'ha già l'accordo con Mbappé a parametro zero a partire dalla prossima stagione un anno in più un anno in meno a Real Madrid non gli cambia niente quindi per quello Mbappé sarebbe così tranquillo dice io mi gioco l'ultima stagione qua là già c'ho la proposta economica pesantissima e poi me ne vado a Real Madrid sta bene il Paris Saint Germain a dire deve arrivare qualcuno che gli offre 200 milioni di euro se non arriva nessuno Mbappé il contratto ce l'ha è vincolato dal contratto ragazzi il cortello dalla parte del manico ce l'ha lui il Paris Saint Germain può fare veramente poco è inutile che lo vanno cacciare come lo vanno fa metterlo fuori rosa o che potrebbe anche succedere in realtà però c'ha veramente poco senso a sto punto dello sfrutti per l'ultima stagione cioè alla fine c'ha ragione Mbappé ragazzi come da aggiri da aggiri è una situazione molto molto particolare ma secondo me finirà così giocherà la prossima stagione nel PSG non so se giocherà nel senso che giocherà sul campo se decideranno poi di rilegarlo in panchina per una stagione per farglielo sgarro però là rimane e poi Real Madrid 100% per la stagione successiva il Genoa si dice che sia vicinissimo a Retegui ma molto molto vicino sembra però ci sia un'azione di disturbo da parte dell'Inter da parte dei Nerazzurri che vista la situazione Lukaku visto che comunque ci hanno bisogno di un ulteriore rinforzo qualcuno potrebbe dimmi ma passi da Lukaku a Retegui cioè Retegui a livello fisico sono due giocatori diversi era già un obiettivo dell'Inter ancora prima che Mancini anche lo stesso Milano se non ricordo male ancora prima che Mancini lo convocasse in nazionale e poi è diventato quel che è diventato perché comunque gli ha dato una visibilità non indifferente sembra possa sembra possa esserci questa azione di disturbo la Lazio è fortemente interessata a Ricci ha parlato Urbano Cairo ovviamente proprietario del cartellino del calciatore e ha detto per me Ricci resta il Torino a meno di offerte irrinunciabili io ipotizzo che difficilmente la Lazio possa fare un'offerta irrinunciabile per Ricci no? di che cifre parliamo? che significa irrinunciabile? è come per volerlo blindare no? non è disposto ad accettare offerte umane diciamo per il calciatore il vero valore di mercato del ragazzo quindi credo che la Lazio debba cercare qualcos'altro sta tornando in voca ragazzi non è che sta tornando in voca un ex calciatore della Roma che abbiamo all'epoca ceduto per fare una plus valenza importante arriva una notizia calciomercato e è diventato un esubero del Paris Saint Germain messa a risalire il polpettone l'anno scorso giocava la Juventus ha fatto male sto parlando di Paredes la Roma cerca un profilo a centrocampo facciamo attenzione se ripensa a quel Paredes ragazzi mi brillano gli occhi se penso al Paredes attuale però insomma qualche dubbio questa operazione di calciomercato onestamente me la suscita cioè che vedevo di ne riparleremo sicuramente qualora dovesse verificarsi Napoli adesso deve veramente sostituire Kim ma già lo sapevamo però adesso veramente effettivamente Kim è un nuovo giocatore Bayern Monaco esce fuori l'ulteriore l'ennesimo nome non credo ve l'ho mai detto questo sembra sia arrivato addirittura in cima alla lista di De Laurentiis vediamo se riusciranno a chiudere quest'operazione di calciomercato ovviamente è abbastanza costosa parliamo di Killman qui no Gabbo man Killman l'uomo che no Gabbo man no calciopoli avevo letto ma comunque questa è pesantissima ve la dirò Killman del Wolverhampton raga ritiri una cosa in altra credo che il Napoli si debba da una mossa per consegnare ovviamente a Rudy Garcia il difensore che ipotizzo sarà il titolare della prossima della prossima stagione quindi devono un po' accelerare i tempi decidere rompere gli indugi e andare a prendere qualcuno la Juventus è forte su Lindstrom dell'Eintracht il classe 2000 ovviamente arriverebbe solo perlomeno questo stanno dicendo adesso solo qualora partisse chiesa perché comunque c'è una valutazione che non vale 4 euro e 50 quindi qualora partisse chiesa per un'offerta rinunciabile insomma il sostituto sarebbe proprio da di Killman Lindstrom dell'Eintracht e adesso ragazzi veniamo al dunque perché dobbiamo parlare nuovamente di Romelu Lukaku e questa è una situazione molto molto particolare perché Lukaku è fuori rosa dal Chelsea è una scelta presa di comune accordo con la società quindi se presenta gli allenamenti si allena a livello fisico una cosa in altra ma è fuori rosa quindi non giocherà per il Chelsea la prossima stagione e devono cercare ovviamente un'alternativa Lukaku ha alzato la cornetta Namundi al casa ti aspetta e ha provato a ricontattare l'Inter ha provato a ricucire un rapporto che ovviamente ragazzi si è rotto l'Inter continua a rifiutare giustamente le richieste di Romelu Lukaku di provare a trattare di provare a fare pace tra virgolette ma io sono completamente dalla parte dell'Inter per come si è comportato adesso diventa una una sua esigenza il non voler restare a piedi perché rischi veramente se non arriva l'offerta per Vlaovic e non lo vendi la Juventus l'offerta a Lukaku non gliela farà mai lo ha detto anche lo stesso Giunto Lino ha detto noi ci fidiamo dei calciatori che abbiamo poi se arrivano offerte rinunciabili allora quella è un altro discorso ma stiamo parlando di cose che potrebbero accadere ma che attualmente non possono accadere perché Vlaovic è bloccato tra virgolette Vlaovic sta bloccando Lukaku l'unica alternativa che rimane a Lukaku ed è assurdo a pensarlo nessun'altra squadra è interessata in Europa a spendere 40 milioni di euro per prenderselo qui poi con questa riuscita il fatto che parlava con la Juventus ok a livello anche di professionalità alle altre squadre è un plus tante squadre hanno un'etica societaria no fa strano anche perché la Juventus ha un'etica indirizzata anche su questo tipo chi lo sa che la Juventus proprio per a parte no che se l'hanno chiesto non lo so vabbè è una situazione molto particolare Lukaku continua a chiamare l'Inter a sto giro è l'Inter che non risponde che dice basta ci hai stufato sappi che qua spazio non c'è Lukaku rischia di rimanere a piedi a meno che l'unica offerta che c'ha è la Saudi Pro League però capite bene che va in Saudi Pro League di rimanere a piedi tutti o nessuno se lo piglia grazie per la visione e sapete gli obiettivi per sbloccare il doppio episodio di giornata alla prossima con un nuovo video ciao